ciao bimbi tanti bacetti dalla maestra mari allora cosa facciamo oggi oggi facciamo un bel sole che porta così tanta gioia nelle nostre giornate allora cosa serve serve una scheda dove vedrete disegnato il sole io già l'ho colorato con il colore acquerello ma voi potete colorarlo come preferite anche disegnando il sole in un altro foglio giallo poi ci serve della pasta io ho preso le pennette ma voi se volete potete usare i fusilli potete usare gli spaghetti quello che avete a casa è della colla allora quindi per prima cosa bisogna colorare il nostro sole dopodiché prendere la colla e metterla come a formare tanti raggi guardate così guardate un po sembrano tanti raggi in 3d ok aspettate che io intanto mi comincio a incollare questi poi prendere la pasta e schiacciare dove c'è la colla guardate un po guardate che il sole comincia a prendere una bellissima forma ok schiacciare forte forte così così e continuare ok a fare altri raggi fino a completare tutto ok così si fa e il nostro sole è pronto guardate aspetta che schiaccio tutti quanti ah così non mi cadono guardate qua e il nostro sole è pronto bimbi volevo dirvi che voi siete il sole delle nostre giornate speriamo di vederci presto presto miur Grazie a tutti.